Signori, oggi a grandissima richiesta, andremo a fare il meme review dei meme, ovviamente, del mio server discord, in caso entrate nel link in descrizione c'è tutto, lo sapete meglio di me. Iniziamo, sigla! Iniziamo. Sto giro voglio partire dal basso verso l'alto, perché vedo un bel creeperozzo e che fai non ci clicchi su un creeper a schermo intero, tra l'altro, quindi vediamo cosa succede. Ok. Ok, il primo ci è piaciuto, secondo, my facebook profile, my instagram profile, io a casa, sì, confermo, è vero, ma do, tra l'altro, questa cosa mi ha fatto venire in mente da quanto non aggiorno il mio profilo facebook e non pensate di andare a cercarmi su facebook, perché fa schifo. Massa, che organizza un torneo di Among Us, tutti partecipanti del server discord, oh mio dio, che animi, no, fermi, usciamo, signori, cosa numero uno, sì, c'è piaciuto tutto il torneo di Among Us, in caso non organizzeremo un altro, cosa numero due, che cosa sono quegli animali che sono lì con la bocca, scrivetemelo nei commenti, c'è che cosa, che cacchio, vabbè, lascia perdere, andiamo avanti. Ah, tra l'altro, parlando di Among Us, c'è una lobby con... Ah? Ehm... Prossimo meme, quando Master dice come installare Fall Guys gratis sul telefono, ebbene sì, ci avevo fatto un video, tra l'altro, un bel po' di tempo fa, ed è, se lo son visti in 7 miliardi di persona, ci sta, gg, fatemi sapere se ve lo siete scaricati. Evviva, ho trovato 10 dei manti scavando come un pazzo, Master con la mod dei materiali moltiplicati. Ah, 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 ah. Cioè, tra l'altro, quella mod vi è piaciuta un botto, in caso vi invito ad andare a vedere il video, perché, stupendo, Master, Diamanti Infiniti, mod dei blocchi che si duplicano, esatto, ormai, sono partiti i meme su quella mod. Io, quando Master fa un contest, ma non sono a casa, io sono... Le Lentez... Its... Ah, Teresa bello, Cars, oh mio Dio, e oh mio Dio, quanto è inquietato. Ah, ah, ah. Quando pensi che i banchi con le ruote Quando pensi che i banchi con le ruote non sono veicoli però la bidella ti chiede patente e libretto Sad story amici, sad story Chi è sto tizio? Master quando prova la mod che duplica gli oggetti Tipo sembra, oddio sapete cosa ci sta perfetta di sottofondo La canzone è quella Sambadis gonna to cry she wreck Sì dai avete presente tutti in caso il master dell'editing la metterà Uh altro meme sempre su quello dei diamanti moltiplicati Mamma stasera esco No, prima finisci di moltiplicare la cobblestone La cobblestone che si moltiplica Master quando trova una mappa che ti fa duplicare gli oggetti all'infinito Siamo ricchi signori, siamo ricchi Basta, ho deciso oggi, esattamente dopo questo video Mi vado a registrare nuovamente la mappa dei cosi infiniti Perché mi è piaciuto un botto New password, nasa, blu8, 1, 0, 5, 4, 4, 4 Debole Nuova password, ciao Forte Non fa una piega Io, nuovo gioco Roblox Sempre io Sempre nuovo gioco Tra l'altro non ho mai portato Roblox sul canale Non ci ho mai giocato Fatemi sapere Così tranquilli Tranquilli Se volete Non mi viene la parola Non mi viene la parola Un video su Roblox Roblox Da 30 led Non l'ho capita Non l'ho capita Scrivete me la nei commenti Credo che si legga Non si basa una breve confezione Grazie Quando gioco a Granny Quando gioco allo Slenderman Quando gioco a Five Nights Oh mio Dio Vero Confermo Io che voglio finire Minecraft Ma dopo Scopro che è finita prima la mia vita Colpo di scena incredibile Not stonks totale Quanto è inquietante Quello scheletrino Alco più Schippa Schippa Ma con che Ma con che faccia Signorina E la zolina questa Papà mi vieni a prendere A scuola oggi No Torna col banco Oddio Challenge Casa scuola col banco Un milione di views Mi farebbe Un milione di views Mi farebbe Ci penso Magari Tra qualche giorno Vedrete un video un po' particolare Allora Sono vietati cani Sigarette Cibo Biciclette Monopattini Qualcosa Macchine Carra armati Armi E oh mio dio Siamo palesemente In Russia Saluto alla Russia Ket Ketra È un'azienda Di trattori Negro No Mi dissocio Ma con quale Faccia È il miglior meme Della vita Ma signor gattino Ma mi scusi Ma con che faccia L'estate 2020 È stata una bella settimana Confermo Per tempo di girarmi E rigirarmi Era finita l'estate Vabbè Nulla Ed è vero È più inutile Ed è l'ora di religione Tra nel testo Segna la giocatore Su Fortnite Quello non serve Veramente È un BEEP Eh sì L'ho fatto io Il BEEP Non avevo voglia Di metterlo nell'editing Dottore Dottore Ho la soluzione Che migliorerà il mondo Ok Dimmi pure Quando non capisco Cosa sta dicendo Un tipo Rispondi sempre Wow Pura filosofia È vero Dai Vi è successo anche voi Magari siete lì Che parlate E lui ti parla Non sai cosa dire Sì Sperando che fosse una domanda E invece Magari a volte Non lo era Avrei qualche storiella Interessante Da raccontarvi Detto ciò Altro meme Pollo supremo Semi Pulcino Con quale riverenza Gli sta donando La sua sfada Al pollo supremo Ma no Il king dei polli Epic games Soldi Players Io che sono il bullo La sua pagella L'amico secchione Cioè ormai C'è stato un giorno In cui questi meme Sono andati di moda E li hanno buttati Oh mio dio Quanto è cringe Pizza con l'ananas Nessuno Bravi figlioli Giusto così Dai che schifo Come fa a piacere La pizza con la Cioè che cacchio Che schifo Amico scroccone Soldi Io Non fa una piega Cesso Vita sociale Aslan Ok Mi dissocio Mi dissocio Tempest Warn Tempest Warn Solo quelli del server Sapranno di cosa stiamo parlando Ma questo meme è bellissimo È bellissimo Stupendo Wow Questo gioco in VR È così realistico Tempest è popolare Lacrime virili Eh sì Ebbene sì signori O si sa perché Meno ogni video Sbuca Tempest Tempest e Masser Tutti Ma proprio tutti No Ci dissociamo Tra l'altro perché Il meme dei bot si chiama Geppetto Vabbè lascia perdere Masser Soldi Due euro Che fai li butti Youtube Vero Che cacchio rido È vero Sta venendo Favij Sta venendo Masser Non l'ho capita Ma fa ridere Ok Monetizzazione Masser Eh sì signori Mi manca la vecchia e cara Monetizzazione Ehm Sì Ok Brawl Stars Fortnite Minecraft Un cecchino molto cattivo E la M di Masser No Ma ripero Chi è che l'ha fatto Tempest Signor Tempest Però dai ti sei Redento Esiste la parola Redento Facciamo finta di sì Con Masser Ather Masser Ather Masser Thanos Cambiare il pannolino E Zeren Non l'ho capita Questa è la mia faccia Di quando ho raggiunto I mille iscritti Oh yeah Woohoo Woohoo Beh i vecchi tempi Dei mille iscritti Cioè tanto quanto tempo Fa è passato L'avrò raggiunto Tipa dicembre Gennaio Boh E signori Chiudiamo con il puzzle Di Peppa Pig Fatemi sapere nei commenti Se riuscirete A costruirlo tutto Sarà il delirio Spero che questo video Vi sia piaciuto Non so quanto sia durato Spero abbastanza Inviatemi come sempre Al demame Nel server discord E un VRT non bot Cioè proprio un bot Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani All'1.45 Con un nuovo video Ciao